Amore mio, amore mio, parlami un po' di te. Dite dove sei, dove abiti, quanti anni hai. Io mi chiamo Maria, il mio cognome è Garzón, sono colombiana, abito a Bogotà, io faccio la Youtube e lavoro a casa, ho 25 anni. E tu? Molto bene! Io mi chiamo Daniela, il mio cognome è Kajé, io sono della Colombia, a Bogotà, io abito a Bogotà, Ehm... Se me acabo il tempo! Grazie. 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 Grazie a tutti.